Siamo con mister Alberto Criaco del Branchelone. Allora mister, una partita combattuta fino all'ultimo minuto. Un primo tempo dove Branchelone era partito bene e anche se già il Sersale si vedeva che avrebbe reso molto difficile la vita. E un secondo tempo dove forse ci si è un po' disuniti, si sono rallentati i ritmi, la squadra si è un po' allungata e il Sersale sinceramente ha preso campo e forse meritatamente ha anche raggiunto il pareggio provvisorio. Sì, dici bene Mimmo, secondo me abbiamo fatto una grandissima mezz'ora dove abbiamo tenuto bene il campo, dove siamo andati a palleggiare molto anche perché il Sersale ha badato a chiuderci le linee di passaggio. Si sapeva anche in settimana, l'avevo detto ai ragazzi, che sarebbe stata una partita dura. Il Sersale veniva da sé, i risultati utili consecutivi. E' una buonissima squadra, in effetti io non so come al momento, o meglio, sicuramente sono stati penalizzati da un girone da andata particolare, però è una squadra arcigna, una squadra tosta, una squadra ben allenata, una squadra che ha passo. Come dici bene, nel secondo tempo un attimino ci siamo disuniti sul fatto che forse si era in vantaggio e pensavamo che la partita era chiusa. Abbiamo perso campo, nel momento in cui abbiamo perso campo hanno trovato il pareggio meritatamente, però poi siamo una squadra che non molla mai, ci siamo riversati per andarla a vincere quasi con la forza. Con la forza siamo andati a buttare tutto dentro quello che avevamo e sul calcio di rigore poi l'abbiamo sbloccata e la partita poi è filata liscia. Però l'abbiamo sudata, forse i punti l'abbiamo meritata perché anche nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni su pallina attiva. Sono contento che su pallina attiva è arrivato il gol dell'1-0. L'abbiamo studiata, sapevamo che con quella palla le potevamo mettere in difficoltà e così è stato. E quindi sono contento perché il mio lavoro poi l'ho rivisto in campo. E un bravissimo va anche al Sarsala perché era una brutta gatta da pelare. Siamo riusciti a farlo. Adesso subito testa a martedì perché ci aspetta un'altra partita a stilo delicata e poi vediamo un attimino quello che ci riserve il futuro perché credo che al momento noi ci meritiamo il posto che abbiamo e meritiamo di entrare a fare questi play-off. Se così sarà onestamente si corona un sogno. E va bene così, ma adesso un attimo dobbiamo staccare anche mentalmente. Forse questa sosta viene nel momento giusto. C'è qualche giocatore che sta recuperando. Oggi abbiamo visto dieci minuti Bruno Spittale, era quattro mesi. Per gara dal primo minuto dopo quattro mesi e mezzo. Non ne abbiamo mai parlato. Abbiamo giocato sempre con l'acqua alla gola, dodici elementi, tredici elementi. Abbiamo fatto un grandissimo campionato. Adesso stanno recuperando i ragazzi. Abbiamo Matteo Carbone ancora fuori. Speriamo di recuperarlo per la partita a stilo. E va bene così. Mistra, hai detto praticamente tutto. Ci sono due partite intervellate da 15 giorni fuori casa con lo stilo monostraccio e in casa con il Rende. È ovvio che si devono portare a casa dei punti perché le altre sopra non si fermano. Ma in ottica appunto play-off, come è detto, si stanno recuperando dei calciatori. Ma queste pause faranno bene perché praticamente in un mese si giocheranno due partite. Oppure magari era meglio chiuderla subito la pratica? No, per quanto mi riguarda era meglio chiuderla subito perché siamo lì a un passo da un sogno. E prima si materializza, se si dovesse materializzare è meglio. Però da un altro punto di vista capisco i miei ragazzi. Abbiamo corso per 28 partite, ma corso come matti. Onestamente, dal punto di vista fisico credo che siamo la squadra che sta meglio. La squadra che è arrivata ad un punto del campionato nella quale poi anche un play-off può succedere di tutto. E quindi credo che questa sosta magari ci fa ricaricare un po' le batterie. Però non sono preoccupato. L'unica situazione che può venire al nostro vantaggio è che riesco a recuperare anche Morabito. Ancora Morabito fuori e Matteo. E poi andarci a giocare questo finale di stagione che comunque vado. Onestamente oggi abbiamo portato un sacco di gente al campo con le famiglie, le famiglie al campo. Un bel vedere, un bel vedere. Brancalone si è svegliato, si è svegliato vicino ai ragazzi, vicino a tutti noi. Ci stiamo divertendo, ci stiamo togliendo soddisfazione. E onestamente sono contento del mio lavoro perché io insieme al mio staff secondo me in questi tre anni abbiamo fatto un lavoro che va oltre. Ogni più ragionevole se ci pensavamo davvero si cadeva dal letto. Sono contento e oggi mi sono emozionato perché la mia squadra mi rispecchia. La mia squadra è una squadra che non molla mai. All'87 prendiamo il pareggio e poi andiamo a vincere la partita perché non molliamo. Non molliamo, ma grazie a te.